Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie al passo, gamba e vai, vai un po', vai, lasciala un po' più libera, così, bravo, super, bravissimo, guarda dentro Ale, guarda dove vai. Ora rallenta, schiaccia le gambe addosso, schiaccia e vai, schiaccia e monta, bravo, bravo, guarda dentro e vai, vai così, bravo, vai, vai. Vai, 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 ora raddrizza bene qua al centro a metà, raddrizza, naso e camba, bravo. Vai, vai, guarda avanti. Ale qui, eh. Rallenta, bravo. Super, schiaccia le gambe, gira, gira. Guarda dentro e vai, così, seguito bene. Stessa cosa Ale, eh, guarda a me. Raddrizza, naso, vai, ora. Bravo. Ora piano, ora piano, alla finestra, giri. Gira, piano, così. Bravo. Bravissimo. Tienila un po', usa le gambe, usa le gambe, usa le gambe. Bravo. Alla finestra, giri, guarda avanti. Piano. Così. Yeah. Vai, vai. Bravo. Stessa cosa Ale. Tienila un po', lavora un po' in curva. Piano, piano, così. Gira, vieni, aspetta, vai. Bravo. Quindi abbiamo un bel stando a voto. Contesto per questo. Soprano, non è necessita a voto. Bravo.